Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono John Red e oggi parliamo del grande fratello VIP 6, una proposta di matrimonio. Vediamo di chi si tratta. E' andata in onda una nuova puntata del grande fratello VIP 6, dove abbiamo assistito a un momento davvero emozionante, che ha emozionato tutti, sia i concorrenti in casa che in studio e anche a casa. I protagonisti sono Alessandro Rossi e Francesca Cipriani. Quest'ultima ha avuto la proposta di matrimonio in diretta nazionale. Inutile dire che il forte legame che li lega ha avuto un esito positivo. Infatti la Cipriani, in lacrime, quasi che sveniva in diretta, ha subito detto il fatidico sì alla proposta di matrimonio fatta da Alessandro. Insomma, un momento emozionante, che ha fatto emozionare tutti, persino Manuel, che ha dovuto asciugarsi le lacrime per l'emozione. E voi? Avete visto la proposta di matrimonio? Se sì, scrivete nei commenti e ditemi la vostra. Per il momento ho concluso questo piccolo video news. Se vi va, iscrivetevi al mio canale per altre news. Un grosso abbraccio da Joe Red. Grazie. Grazie.